In effetti abbiamo bisogno che le istituzioni stiano a fianco delle scuole e delle istituzioni locali. E' importante che ci sia questo spirito di collaborazione e ci auguriamo davvero che ci sia una velocizzazione nella spesa che ci può portare solo meglio e bene perché abbiamo territori che ne hanno fame davvero, di migliori e di nuove infrastrutture funzionanti. E quindi chiamo con orgoglio Giuseppe Marino che è seduto in sala, lo invito qui alla Presidenza. Lui si occupa di politiche comunitarie per la città metropolitana di Reggio Calabria quindi ci saprà dare in questo caso una visione che è sicuramente ampia per l'istituzione sempre più importante del territorio. Buongiorno a tutti, un saluto ai rappresentanti istituzionali presenti, in particolare alla rappresentanza della Commissione Europea, alla Sua Eccellenza il Vescovo di Locri, all'Ufficio Scolastico Regionale, ai dirigenti scolastici che vedo presenti, gli insegnanti e soprattutto a quei studenti perché questa festa, ragazzi, è per voi. Io sono davvero felice della scelta che si è compiuta quest'anno di celebrare l'Europa all'interno della città metropolitana in un'ottica di sinergia e di collaborazione forte fra i uffici Europe Direct presenti nel nostro territorio.